Rimane in carcere il 17enne che nel luglio scorso ha ucciso con un colpo di cacciavita alla testa il 24enne Calogero Giardina. I giudici del Tribunale della Libertà di Palermo hanno rigettato il ricorso presentato dal legale difensore del minore, l'avvocato Diego Giaratana, che chiedeva la revoca della misura cautelare. Il minorenne Quinti resta in carcere con l'accusa di omicidio con le aggravanti della crudeltà e dei futili motivi. Nei prossimi giorni il giudice per le intagini preliminari del Tribunale dei Minori di Palermo fisserà un nuovo interrogatorio per il 17enne così come aveva lui stesso richiesto durante l'udienza che si è svolta davanti ai giudici del riesame. Nelle settimane scorse il minore dal carcere con una lettera interizzata alla famiglia di Calogero Giardina ha chiesto perdono per quello che aveva fatto. Sono trascorsi poco più di due mesi da quella tragica lite costata la vita al 24enne canicattinese. Morto dopo 11 giorni di agonia all'ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca, i medici tentarono l'impossibile per cercare di salvargli la vita. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Canicatti che si sono occupati delle intagini, il minore avrebbe invitato Calogero Giardina ad uscire fuori da un bar per un chiarimento. Aveva scoperto che la sua ex fidanzata frequentava il 24enne una volta fuori dal locale l'aggressione a colpi di cacciavite. Grazie. 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 Grazie.